Saranno catalogati in vista di una prima esposizione i reperti costituiti dalle attrezzature di soccorso delle miniere donati dall'INAIL al comune di Caltanissette e custoditi nell'ex scuola Luigi Monaco di via Berengario Gaetani. E quanto si legge in una nota inviata da Palazzo del Carmine, il sindaco Giovanni Ruvolo e l'assessore alla creatività e partecipazione Pasquale Tornatore hanno incontrato nei giorni scorsi i rappresentanti delle associazioni Amici della Miniera e non solo, per un protocollo d'intesa che sarà definito nei prossimi giorni. L'iniziativa prevede, oltre alla realizzazione della prima mostra di tali reperti, una più ampia attività di valorizzazione del patrimonio minerario nisseno. La prima mostra di questi reperti sarà realizzata a novembre, annuncia il primo cittadino.